Come è caro a voi è caro anche a me ed è un testo che soprattutto i più giovani sia nell'età che nella fede spesso leggono e quando non lo leggono ma lo ascoltano predicare vengono incoraggiati da questo testo e sono le parole iniziali del libro del profeta Geremia quindi leggiamo al capitolo 1 dal verso 4 leggeremo sino al verso 10 libro del profeta Geremia capitolo 1 dal verso 4 chi l'ha trovato dica Amen chi non l'ha trovato dica Amen adesso sfogliate pure la Bibbia se qualcuno invece utilizza il cellulare aprite pure l'applicazione libro di Geremia capitolo 1 dal verso 4 è importante avere la propria Bibbia al seguito perché vi consente di annotarvi il verso se non avete come annotarlo fate una piega quella che a scuola si chiama fate all'orecchio alla pagina così da poter poi successivamente rileggere il testo e meditare nuovamente la nostra riflessione leggiamo insieme dal verso 4 primo capitolo profeta Geremia addiosi alla gloria la parola dell'eterno mi fu rivolta dicendo prima che io ti formassi nel grimbo di tua madre ti ho conosciuto prima che tu uscissi dal suo grimbo ti ho consacrato e ti ho stabilito profeta delle nazioni io risposi ahimè signore eterno io non so parlare perché sono un ragazzo ma l'eterno mi disse non dire sono un ragazzo perché tu andrai da tutti coloro ai quali ti manderò e dirai tutto ciò che io ti comanderò non temere davanti a loro perché io sono con te per liberarti dice l'eterno poi l'eterno stese la sua mano e toccò la mia bocca quindi l'eterno mi disse ecco io ho messo le mie parole nella tua bocca ecco oggi ti costituisco sopra le nazioni e sopra i regni per sradicare e per demolire per abbattere e per distruggere per edificare e per piantare e ci fermiamo qui la prima considerazione nessuno pensi che nel momento in cui Geremia o chi per lui scrive queste parole i fatti siano contestuali ossia il Signore parla a Geremia e Geremia sta lì con il suo diario e annota queste cose siamo piuttosto davanti a un guardare indietro e a distanza di anni sono anni che Geremia è profeta in Israele sono anni che Geremia grida per le strade di Gerusalemme ma annuncia un messaggio scomodo Geremia rispetto agli altri profeti del tempo è uno che va controcorrente è uno che non dice ai governanti quelli quello che essi vorrebbero udire ma si adopera ad annunciare la parola di Dio ed è a distanza di anni dopo che ha fatto un certo percorso dopo che le ha viste di tutti i colori dopo che ha patito anche una forma di persecuzione dopo che è stato gettato in prigione dopo che è stato allontanato dalla corte del re e chissà quante volte si è ritrovato da solo perché quelli che scelgono di vivere secondo la parola di Dio spesso si ritrovano da soli perché la parola di Dio non trova sempre il consenso di tutti anzi il più delle volte trova resistenza trova opposizione e Geremia guarda a quello che gli sta accadendo e ricorda la parola dell'Eterno mi fu rivolta la parola dell'Eterno mi fu rivolta oggi vedo quello che mi è accaduto oggi considero quello che mi sta accadendo e posso dire che c'è stato un giorno che Dio mi ha chiamato perché quello che sto vivendo è ciò che Dio ha stabilito per la mia vita c'è stato un giorno in cui Dio ha parlato proprio a me e se voi continuate la lettura di questo libro a ripetizione infatti ci siamo fermati al verso 10 e il verso 11 dice nuovamente la parola dell'Eterno mi fu rivolta ancora al verso 13 la parola dell'Eterno mi fu rivolta una seconda volta il capitolo 2 si apre la parola dell'Eterno mi fu rivolta ancora la storia di Geremia è la storia di un uomo che all'orecchio attento alla voce di Dio e tante volte anzi tolgo il tante volte torno indietro lo cancello quasi sempre la voce di Dio noi non la odiamo a livello d'orecchio ma la contempliamo perché consideriamo quello che stiamo vivendo è lo spirito di Dio apre i nostri occhi sarebbe il caso di dire che in certi momenti noi la parola di Dio la vediamo non la ascoltiamo ma la vediamo manifestarsi la vediamo adempiersi come quando mettete il lievito in un impasto e vedete l'impasto lentamente crescere davanti ai vostri occhi e così è la parola di Dio prende forma in noi il battista ebbe a dire di Gesù è arrivato il momento che io diminuisca e che lui cresca noi dobbiamo spiritualmente imparare a zittire noi stessi e ad ascoltare ogni giorno di più la voce di Dio lasciare alla parola del Signore prendere spazio prendere forma prendere vita in noi la parola del Signore mi fu rivolto significa anche che al di là di tutto al di là della nostra situazione al di là della nostra condizione Dio parla proprio a me Dio parla proprio a te io spero che ognuno di voi possa oggi in questo giorno poter riconoscere che c'è stato un giorno una settimana fa un mese un anno un decennio 20 30 50 anni fa che c'è stato un momento in cui Dio ha parlato proprio alla tua vita e non hai sentito la voce del Signore allora ma è dopo che hai visto che quello che hai percepito che quello che ti stava accadendo era veramente un incontro speciale e Geremia guarda al giorno del suo primo incontro quando Ode percepisce la chiamata di Dio e come si rivolge questo Dio tanto lontano ma tanto vicino tanto diverso da noi ma così simile a noi prima prima che io ti formassi nel grimbo di tua madre Signore perché mi hai formato tu non è stato l'amore di mio padre e di mia madre che c'entri tu prima che io ti formassi nel grimbo di tua madre Dio avvolge il nastro dell'esistenza di Geremia gli sta dicendo Geremia guarda prima che tu cominciassi a lavorare Geremia prima che tu andassi a scuola Geremia prima che tu imparassi a camminare Geremia prima che tu dicessi per la prima volta papà perché la prima parola che dicono i bambini mi dispiace per le mamme è papà avete voglia di dire impossibile io le prove registrate la prima sillaba che i bambini cominciano a pronunciare è pa e poi viene facile papà prima che tu dicessi la prima parola prima che tu facessi il primo passo io ti ho conosciuto Geremia aspetta prima che tu dicessi ingue prima che tu mettessi la testa nel mondo Geremia aspetta prima che tu cominciassi a svilupparti nel grembo di tua madre Geremia aspetta prima che l'ecografo ti vedesse prima che qualcuno dicesse a tua madre signora lei aspetta un bel bambino Geremia aspetta prima prima che tuo padre aspetta Geremia prima che tuo padre e tua madre si conoscessero prima caro fratello cara sorella questo giorno ha un prima nella storia di Dio questo momento ha un prima lontano dalla nostra conoscenza se tu oggi sei qui è perché Dio prima prima che il fratello la sorella ti invitasse prima che tu decidessi di venire prima che qualcuno ti parlasse prima che tu vedessi un programma televisivo prima che tu cominciassi a leggere la Bibbia prima di ogni cosa prima fuori dalla nostra comprensione l'occhio di Dio era su di te e uno potrebbe dire ma c'ho tanti guai c'ho tanti problemi c'ho tante situazioni che non vanno c'ho tante cose da risolvere come è possibile devi sapere che il fatto che Dio abbia il suo sguardo sulla vita di qualcuno non vuol dire che la vita di quel qualcuno è felice come noi possiamo ipotizzare avere lo sguardo di Dio sulla propria esistenza non vuol dire che non ci sono problemi non vuol dire che non si finisca nei guai non vuol dire che non c'è nessuno che ti reca fastidio perché la storia di Geremia è piena di fastidi è piena di problemi è piena di persecuzioni ha problemi familiari ha problemi con gli altri sacerdoti ha problemi con il re ha problemi con la città ma non solo Geremia immaginate a Giona non vi piace Giona prendete Abramo chiunque uomo o donno nella scrittura noi leggiamo che hanno udito la voce di Dio sono poi stati accompagnati nelle loro faccende da un sacco di guai e di problemi però dice a quelle persone Dio dice a noi prima prima ti ho conosciuto prima ti ho consacrato prima allora io oggi posso dire che quel che faccio è perché Dio l'aveva visto e stabilito prima non è per la mia capacità non perché io ho deciso non è perché io sono stato bravo non è perché io ho conseguito dei titoli non è perché io ho incontrato la persona giusta non è perché io me la sono fatto con le persone giusto ma è perché prima 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 e prima ancora Dio aveva stabilito il che dice a me e dice a te che la mia storia è nella sua storia che la mia vita procede dalla sua vita che quel che oggi ogni giorno abbiamo grazia di fare è un dono dell'eterno e Geremia davanti a quelle parole sgomenta resiste perché c'è un'altra verità triste tra virgolette che quando Dio ci parla quando Dio ci chiama voi veramente volete ascoltare la voce di Dio voi veramente volete che Dio vi chiami per nome guardate che quando Dio chiama sono solo problemi io diverse volte ci ho pensato e arrotolando il nastro ho detto ma ho fatto bene a rispondere signore la prima volta e Geremia fa lo stesso discorso e si ricorda di quel giorno quando avverte quel fuoco che arde dentro di lui quando sente quella spinta da parte dello spirito di Dio quando si accorge che c'è qualcuno che ti accompagna che ti trascina perché se siamo onesti con noi stessi riconosceremo che ci sono frangenti in cui c'è una mano invisibile che ci tira che ci accompagna che ci sostiene che ci apre delle porte che ci mette davanti a delle situazioni ma non forza la vita di nessuno di noi perché Dio non ci obbliga Dio non ci costringe Dio ci mette davanti ad una porta e ci dice vuoi entrare vuoi venire sei disponibile è Geremia che conosce Dio è Geremia che quasi chissà quante volte avrà rimpianti avrà detto ma chi me l'ha fatto fare io continuavo a fare il sacerdoto al tempio mangiavo mi portavo i sacrifici a casa tutti mi volevano bene signore io non so parlare vi ricordate Mosè io non so parlare non diciamo davanti al Signore io sono malato non diciamo io sono impegnato non diciamo vorrei fare qualche altra cosa perché quando Dio ci chiama al suo servizio ci chiama ad essere uomini di parole donne di parole perché dobbiamo testimoniare dobbiamo annunciare dobbiamo predicare dobbiamo profetizzare dobbiamo proclamare dobbiamo consolare tutto questo ha bisogno di parole che rispecchiano la nostra vita tutto questo ha bisogno di parole che non siano imparate a memoria ma che siano il frutto di una vita vissuta e Geremia dice Signore io non so parlare io non sono in grado di tramutare in parole i sentimenti io non sono in grado di fasciare con le parole io non sono in grado di aiutare con le parole perché sono un ragazzo non ho esperienza sono ancora giovane nel ministerio è da qualche anno che sono tra i sacerdoti sono troppo giovane perché non ti scegli qualcuno più bravo di me più esperto più capace vi do un consiglio non trovate le scuse con Dio se gli dite di sì dopo non potete tornare più indietro Dio è Dio di parola e Gesù ebbe a dire a chi lo ascoltava il vostro sì sia sì e il vostro no sia no siate chiari siate decisi siate concreti però se dite sì è sì se dite no è no se dice al Signore metto la mano all'aratro se dici al Signore voglio lavorare nel tuo campo domani non puoi dire sono stanco non ne ho voglia se oggi tu dici Signore non ne voglio sapere nulla lui non ti caccia fuori però domani non puoi dire Signore c'è una possibilità per me perché ricorda nel campo di Dio ricorda nel campo di Dio tutti siamo utili ma nessuno è indispensabile quante volte ho imparato che Lui può fare tranquillamente a meno di me e sono felice che Dio può fare a meno di me ma ho scoperto un'altra cosa io non posso fare a meno di Lui io non posso fare a meno di Lui l'Eterno mi disse non dire sono un ragazzo perché tu andrai a quelli che io ti manderò tu dirai quello che io ti comanderò siamo disposti ad aprire la bocca e a dire realmente quello che il Signore vuole che noi diciamo oggi la difficoltà maggiore non solo per i nostri servitori per i nostri giovani servitori per i nostri monitori per tutti quelli che hanno un ruolo di parola non solo nelle nostre chiese ma nella chiesa nel mondo la difficoltà più grande è avere il coraggio di proclamare ancora la sana e piena verità di Dio tante volte si è tentati a smorzarla per paura di offendere qualcuno per timore di dispiacere qualcun altro per timore di perdere una famiglia si strappano le pagine della Bibbia perché forse questo è meglio non predicarlo quest'altro argomento potrebbe essere frainteso ma se la mano di Dio tocca la nostra bocca ne avremo il coraggio di dire tutta la verità solo la verità e così come si fa quando si va a testimoniare in un processo tutta e soltanto tutta la verità però nei processi solitamente questo lo si dice tanto per dire poi le verità vengono accomodate vengono smorzate vengono limate ci sono bravi avvocati che consigliano che sanno modificare però questi non sono problemi nostri noi oggi stiamo parlando della nostra vocazione della nostra chiamata del fatto che sulla nostra vita c'è stato un prima che Dio ha stabilito quello che tu stai facendo oggi è perché c'è un prima che Dio aveva visto ma sappi che forse domani potresti fare qualcosa di diverso che tu oggi non concepisci ma che Dio conosce da prima allora a me non interessa ciò che farò domani a me interessa che ciò che sono chiamato a fare oggi lo faccio con tutto me stesso onorando il Signore qualunque ruolo qualunque lavoro qualunque servizio qualunque piccola cosa Dio ci dà grazie e onore di fare lo vogliamo facendo fare come se lo stessimo facendo a Lui la grandezza degli uomini ci ha insegnato Gesù si riconosce da come servono gli altri e questo è espresso nel testo chi vuole essere il primo sia servo di tutti chi vuole servire il Signore deve essere disposto a porsi al servizio degli altri e quando la mano di Dio tocca la nostra vita quando siamo consapevoli che sopra di noi c'è la volontà di Dio perché la mano addossa ad una persona quando tu dici a qualcuno vai avanti gli stai dicendo io sono con te io ti sostengo io ti incoraggio io ti sospingo anche se non ci sono io sono dalla tua parte tu non sei solo la mano di Dio sulla nostra vita ci rende speciali in un certo senso ci rende super perché Lui è super ed Egli è con noi io ti costituisco sopra le nazioni sopra i regni non poniamo limiti a quel che Dio può fare attraverso la nostra vita spesso diciamo ma dove vado dove posso andare Egli è colui dice l'Apostolo Paolo che ha preso le cose piccole e povere per svergognare quelle grandi e sapienti Egli ha preso quello che gli altri hanno ripudiato quello che la società dice non è buono non serve a niente non vale niente Dio lo prende e dimostra che vale tanto quando è nelle mani di Dio la tua vita vale tanto non per quel che sei ma è perché Dio ti tiene nelle sue mani le mani di Dio sono la tua cassetta sono la tua cassaforte e tu sei il suo bene prezioso tu sei il suo tesoro prezioso tu sei quella perla quel diadema quel diamante che Egli sta perfezionando che Egli sta limando che Egli sta rendendo ogni giorno di maggior valore e se Egli ti ha posto e ti ha chiamato a fare qualcosa non aver timore ti ho chiamato a sradicare e demolire abbattere e distruggere edificare e piantare questo è il verso che è la mia missione infatti chi visita il mio blog c'è questo verso Geremia 1 10 a tutti piace edificare a tutti piace costruire a tutti piace vedere le cose che crescano ma per vedere crescere devi prima distruggere devi prima rivoltare il terreno devi prima togliere le sterpaglie devi prima fare il fosso devi prima lavorare sodo devi prima piantare devi prima innaffiare devi prima curare poi forse dopo tanta fatica dopo tanto tempo vedi spuntare una piantina allora qualcuno dice fratello ma chi me la fa fare io vado dal vivai e mi prendo già la piantina e molti con l'opera del Signore vogliono fare altrettanto ci sono quelli che si vanno a prendere le piantine degli altri ci sono quelli che si vanno a prendere il vaso degli altri ne rimaniamo fedeli al Signore senza lacrime non ci saranno pianti poi di gioia bisogna conoscere prima il pianto amaro della sofferenza della delusione dell'incomprensione il pianto della solitudine il pianto dello sconforto quando ti ritrovi da solo con Lui e dici Signore ma tra tanta gente proprio a me dovevi coinvolgere in tutto questo è umano è giusto che ti lamenti sei fatto di carne sarebbe preoccupante se tu non ti lamentassi lamentati pure perché il Dio che chiamò Geremia ebbe a dire per mezzo del profeta Isaia vieni e litiga con me discutiamone avete mai provato a farlo guardate non c'è cosa più bella ve lo dico nel vostro linguaggio di appiccicarsi con Dio provateci non abbiate paura di discutere con Dio Dio si compiace con noi quando discutiamo quando gli diciamo realmente quello che pensiamo quando non siamo religiosi quando non siamo ipocriti quando ci svestiamo delle nostre apparenze e gli diciamo realmente quello che teniamo dove qui o qui tante volte quello che è nel cuore è sceso nello stomaco è cominciato a diventare amaro non deve essere conservato perciò il Signore dice via e discuti tiralo fuori e Geremia l'ha fatto e riconosce la parola del Signore mi fu rivolta chi è la parola? noi leggiamo il Nuovo Testamento e diciamo che Gesù dice io sono il pane disceso dal cielo Giovanni dice che egli era la parola presso Dio che la parola si è fatta carne c'è una parola che è stata rivolta a tutti quanti noi ed è Cristo Gesù che è stato dato per ognuno di noi e quella parola ogni giorno è messa davanti a milioni e milioni di persone e quella parola io e te siamo chiamati ad annunciare Cristo vivente pane della vita parola di Dio quella parola è rivolta per il tuo bene per il mio bene quella parola è costata dolore è costata sofferenza è costata la morte è costato dolore anche a Dio e Paolo ripercorrendo ciò che Gesù ha fatto dice che egli è vicino a noi se non erro dovrebbe essere lo scrittore agli ebrei che dice è familiare con il nostro patire egli conosce la nostra sofferenza perché l'ha vissuta sulla sua carne e quella parola ancora oggi è per te la parola di Dio tutte le volte che vuoi ascoltare la voce del Signore hai questa parola quella che per grazia del Signore è stata messa sulla carta e questa parola in ogni momento continua a parlare alla nostra vita così come oggi le parole di Geremia di tremila anni fa dicono a me e a te prima che io ti formassi nel grimbo di tua madre ti ho conosciuto la mia speranza e la mia preghiera è che tu oggi torna a casa con questa certezza Dio mi ha conosciuto prima della fondazione del mondo la mia storia ha una storia nella storia di Dio può mai essere una storia con un epilogo triste può mai essere una storia senza speranza se Dio aveva il suo occhio su di te mica era per destinarti alla morte come dice qualcuno egli ha per noi progetti di speranza egli ha per noi progetti di vita anzi Gesù ha detto io sono venuto affinché abbiano vita c'è una traduzione che dice in abbondanza io preferisco esuberante che tante volte ho detto quella esuberante potrebbe essere reso con effervescente Dio non vuole che la nostra vita sia liscia naturale e non ci vuole neanche gassata perché la vita gassata è quella artificiosa lui ci vuole effervescenti naturali con tante bollicine che sono quelle generate dallo spirito di Dio nella nostra vita prima torna a casa sapendo che prima di questo culto prima di oggi egli ti aveva chiamato prima di oggi egli aveva scelto che tu gli appartenessi prima di oggi egli aveva deciso che tu facessi qualcosa per lui prima prima nel principio Dio creò i cieli e la terra e noi siamo in quel principio quel principio ha un fine però l'eternità se egli ha detto prima ti ho conosciuto egli desidera che domani saremo con lui per l'eternità lui ha fatto il prima e qui concludo il dopo tocca a noi lui ci ha chiamato prima ma noi dopo dobbiamo conservare la chiamata dobbiamo resistere alle tentazioni dobbiamo rinunciare al peccato perché una volta messa la mano all'aratro non si torna indietro sarebbe il caso di cantare avanti io vo avanti io vo andiamo avanti con fiducia e con speranza e torniamo a casa con questa certezza Dio mi ha conosciuto Dio mi ha consacrato non ci siamo consacrati noi non ci siamo dati noi a lui Gesù dirà non siete voi che avete scelto me ma sono io che ho scelto voi nel nostro cammino con lui mai guardare a noi stessi anzi quando guardiamo a noi diciamo signore come sono messo male come sono brutto come sono rovinato è meglio che guardo a te è meglio che alzo gli occhi a te perché da te mi viene l'aiuto Dio vi benedica benedica grazie a tutti